Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Continua il corso introduttivo ad Adobe After Effects Adobe, mi hanno cazziato tanti dicendomi che si dice Adobe, ok Adobe, Adobe After Effects, va bene così, ok Dicevo, continua questo corso introduttivo, ribadisco, è un corso base Quindi se già conoscete questo software e sapete utilizzarlo, probabilmente non troverete grandi risposte in questo corso introduttivo Quindi se siete già bravi, magari date una mano a quelli che ne sanno meno di voi Rispondete alle domande di coloro che commentano questi video, se sapete ovviamente rispondere E magari andate oltre, questi tutorial probabilmente non fanno al caso vostro Se però non avete mai utilizzato After Effects, questo è probabilmente il corso che fa al caso vostro Siamo già ormai a lezioni avanzate, quindi vi consiglio di recuperare l'intera playlist e di ricominciare da capo Però per quanti vogliono scoprire come creare forme geometriche Quindi cerchi, quadrati, vedremo anche poi più avanti come si creano delle linee, eccetera eccetera Con After Effects, bene, questo è il video tutorial che fa per voi Prima di iniziare però vi ricordo www.fabioambrosi.it Questo è il sito internet per seguire un po' tutti i tutorial che stiamo preparando C'è l'indice con gli argomenti del corso introduttivo ad Adobe After Effects C'è anche ovviamente il corso base di Adobe Premiere Quindi se volete imparare a lavorare i vostri video Ecco, lì c'è il corso introduttivo Tutto quello che c'è da sapere per utilizzare Premiere Quindi fate una capatina su www.fabioambrosi.it Ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube per restare sempre aggiornati E se vi fa piacere cercatemi su Facebook La pagina da cliccare è Fabio Ambrosi Bene, oggi dicevo vedremo come si creano delle semplici forme geometriche Che voi direte, a cosa può servire una forma geometrica? Beh, una forma geometrica in After Effects a volte può essere la base Per creare poi degli effetti o delle animazioni O dei sottopancia per esempio O dei motion graphics avanzati Quindi imparare come creare un quadrato O più quadrati O come creare un cerchio Ecco, è la base Per poi creare ovviamente animazioni ed effetti molto molto più avanzati Allora, se guardate in alto Qui, nella barra degli strumenti Ovviamente ci sono tanti strumenti Non li vedremo tutti E non li vedremo tutti in questo corso introduttivo Però, uno sicuramente cattura la nostra attenzione Questo quadratino qui, ok? Se cliccate qui sopra con il tasto sinistro del vostro mouse E mantenete premuto il tasto Vedrete apparire un menu a tendina Io sto ancora premendo il mouse Vedete che ho diverse opzioni tra cui scegliere Quindi posso creare, ad esempio, un semplice rettangolo Posso creare un'ellisse Posso creare un poligono Posso creare una stella Posso anche creare un rettangolo smussato Con gli angoli smussati Questa è la seconda opzione Scelgo lo strumento che mi interessa Per esempio il primo Ovvero strumento rettangolo Rilascio il mouse Vedete che il mio puntatore Quando vado nel monitor della composizione Cambia, diventa una sorta di crocetta Bene, clicco con il tasto sinistro del mouse E trascino il mouse In una direzione qualunque Tengo premuto il mouse Vedete che sto creando sostanzialmente un rettangolo E se tengo premuto anche il tasto shift sulla tastiera Posso creare un quadrato Quindi con gli angoli, tutti gli angoli uguali Quindi senza premere niente sulla tastiera Posso creare un rettangolo della forma che più preferisco Tenendo premuto il tasto shift sulla vostra tastiera Ecco che vado a vincolare le dimensioni dell'altezza e della larghezza E vado a creare sostanzialmente un quadrato Quindi creiamo un quadrato Creiamo un rettangolo E con gli altri strumenti a mia disposizione Posso andare a creare per esempio un'ellisse Ok? Stesso discorso per l'ellisse Se clicco e trascino vado a creare un'ellisse Ma se tengo premuto mentre trascino il tasto shift sulla tastiera Vado a creare un cerchio Ok? Quindi un'ellisse e un cerchio Ancora posso creare un angolo smussato Un rettangolo con gli angoli smussati E questo Come potete vedere l'angolo è smussato Posso creare anche, dicevamo, un poligono Il poligono può essere per esempio questo fantastico pentagono E posso creare una stella Ok? Questo è l'ultimo strumento in basso Abbiamo creato una stella Oh! Notate come in timeline O meglio, più che timeline, in after effect Questo è il pannello dei livelli Notate, dicevo, come vengono creati Ingrandisco se riesco Così che potete vedere voi meglio quello che stiamo facendo Ok? Dicevo, guardate come vengono creati Nel pannello delle composizioni Nel pannello dei livelli Intanto un livello Il livello forma E questo livello forma contiene al suo interno Tutti gli oggetti forma che abbiamo creato poc'anzi Quindi abbiamo la stella In realtà ne abbiamo Abbiamo il poligono stella Lui li raggruppa allo stesso modo Però chiaramente questo è il primo poligono che abbiamo creato E questo qui è il secondo Ovvero la stella Ok? Chiaramente abbiamo il rettangolo Abbiamo l'ellisse e tutto quanto Perché è importante notare questa cosa? Perché chiaramente, come già abbiamo visto nelle lezioni precedenti Andando ad espandere ciascuna di queste proprietà Abbiamo dei parametri con cui poter lavorare E ogni tipo di forma ha i propri parametri Per esempio il rettangolo ha la possibilità In realtà poca cosa Comunque per esempio di scegliere il tipo di Il modo in cui vogliamo fondere il riempimento con lo sfondo Cose che poi vedremo magari in altri tutorial avanzati Vediamo però per esempio il poligono Il poligono ci dà la possibilità Qui espandendo l'opzione tracciato poligono Di scegliere quante punte deve avere Per esempio questa credo che sia la stella O il poligono No, questo è il poligono Quindi voglio fare un esagono per esempio Guardate come questo è diventato un esagono E non è più una stella Ok? Cambio il numero di lati Ovviamente un triangolo e così via Per la stella vale lo stesso discorso di prima Ok? Quindi vado a selezionare Il parametro dell'oggetto stella Che in realtà è un poligono Vado qui in tracciato E posso andare, vedete, ad aggiungere Più punte alla mia stella Ogni oggetto chiaramente ha i propri parametri E notate come ciascun parametro a fianco abbia il cronometro Questo è molto importante Perché come abbiamo visto nelle lezioni precedenti Grazie al cronometro noi possiamo decidere di animare questi parametri Domanda che tutti mi staranno facendo E sicuramente si staranno facendo in questo momento Come faccio a cambiare il colore? Per esempio, piuttosto che il bordo Degli oggetti che ho creato Bene, è molto semplice Seleziono qui in timeline L'oggetto di cui voglio modificare il colore e il bordo Poi qui in alto, chiaramente Abbiamo la possibilità di modificare il riempimento Vedete che sto modificando il riempimento della stella Che ormai più che una stella è un poligono con tante punte Ok? Posso modificare il bordo Il colore del bordo Vedete, posso fare un verde invece che un giallo Posso modificare anche il tipo di riempimento Cliccando non sul colore Ma proprio sulla scritta riempimento Vedete che ho un menu Dove per esempio posso scegliere di creare Un gradiente Eccetera, eccetera Adesso non andiamo troppo nei dettagli Sapete che questo tipo è un gradiente radiale Ok? Oppure posso anche scegliere di non dare nessun riempimento all'oggetto In questo caso è un oggetto completamente trasparente Ovviamente io ho selezionato la stella Ma se andasse a selezionare qualunque altro oggetto Questo discorso vale per qualunque altro oggetto Se seleziono direttamente il livello forma Credo che io possa andare a selezionare Il riempimento di tutti gli oggetti in un colpo solo Quindi guardate per esempio Vado a modificare il riempimento di tutti gli oggetti Ok? Perché sto selezionando ovviamente il livello Il livello forma globale Master Ok? Ok? Molti ti chiederanno Se volessi fare Non so Un gradiente come questo Ecco Scelgo il gradiente Poi chiaramente qui ho la possibilità Ok? Cliccando invece che colore pieno Ho la possibilità di giocare con questi parametri Per avere un gradiente totalmente su misura Come lo voglio creare Vedete per esempio posso fare un po' quello che voglio Giocate con i colori Giocate con questi strumenti Utilizzandoli imparerete poi come funzionano E come adoperarli Dicevo Abbiamo messo tutto sotto uno stesso livello forma Ok? Perché? Perché io quando andavo a creare degli oggetti Come in questo caso Avevo sempre selezionato il livello forma Quindi se aggiungo un altro oggetto Vedete che l'oggetto viene aggiunto sempre qui dentro Ma se io volessi aggiungere Non so Una forma per livello Come devo fare? Beh intanto creiamone una di forma Eccola qua Ricordo che viene memorizzato Le ultime Vengono memorizzate le ultime impostazioni Che abbiamo dato al nostro oggetto Quindi dovete sempre tenere a mente Di sistemare le caratteristiche Che voi volete dare al vostro oggetto Dicevo Ma se adesso volessi creare un altro cerchio Su un altro livello Non in questo stesso livello Basta che deseleziono il livello forma E vado ad aggiungere un altro cerchio Vedete che qui A questo punto mi trovo con due livelli forma Ciascuno dei quali Ha il proprio oggetto La propria forma Chiaramente modificabile Credo che sia tutto per questa lezione Giocate Giocate con Con questi strumenti Per prenderne padronanza E possesso Nel prossimo tutorial Metteremo un po' tutto insieme E vedremo come Tutto quello che abbiamo imparato Fino ad ora È già di per sé utile Per esempio Per creare Un sottopancia animato Da magari poter utilizzare Con Premiere Per mettere il nome e il cognome Alle persone che andiamo ad intervistare Piano piano impareremo Ad utilizzare bene After Effects Vedremo più avanti Come creare una linea Vi do una piccola anticipazione Questa è una penna Ok? E con la penna Vado a creare Ovviamente Anche un oggetto Su Totalmente customizzato Come in questo caso Ma se io Vado a creare Un oggetto così Per esempio Vado a creare Una linea Ok? Piccola anticipazione Senza correre troppo Non vi preoccupate Faremo tutto Per il momento Vi ringrazio www.fabiambrosi.it Sito dove troverete Ovviamente L'indice Con tutti gli argomenti Di questo corso Troverete anche Il corso Dedicato a Premiere Se volete Se vi fa piacere Iscrivetevi A questo Canale YouTube Cercatemi Su Facebook La pagina da cliccare È Fabio Ambrosi Lì tutte le novità Dei corsi A mano a mano Ovviamente Che ci saranno Per il momento Grazie mille Buon proseguimento Grazie per i bei commenti Che mi inviate Ringraziandomi Fanno molto piacere Se avete domande Scrivete nei commenti Possibilmente Non scrivetemi In privato Ma non perché Io non voglia rispondervi Ma perché credo sia Più utile Rispondere davanti A tutti quanti Così che anche altri Magari possano trovare Beneficio da risposte E qualche dubbio Magari può essere risolto A più persone Contemporaneamente Grazie 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 Ancora Buon proseguimento Ciao